Benvenuti ragazzi a questa seconda parte della lezione. Ho dovuto dividerla in due perché altrimenti sarebbe diventata troppo lunga. Siamo a pagina 179 del nostro libro. Abbiamo appena visto il documentario di quei 3-4 minuti sull'illuminismo in Europa, che era alla fine del video precedente. Adesso a pagina 179 andiamo a leggere quali sono le caratteristiche di questo movimento di idee. Allora, il XVIII secolo fu dominato da un movimento di pensiero che coinvolse tutta la società colta europea. Ricordatevi ragazzi, la società colta e i contadini non ne sanno proprio niente di tutta questa roba. Tale movimento prese il nome di illuminismo e il suo principio fondamentale fu la fiducia nella ragione. La ragione che veniva vista da questi pensatori come una luce, cioè un lume, del cammino dell'uomo. Ragazzi, riflettiamo un momento su questa parola. È illuminismo, illuminare, portare la luce. Si porta la luce di solito in un luogo buio. Quale può essere, secondo gli illuministi, questo luogo buio da illuminare? Beh, sicuramente quella parte del cervello che è ancora preda della superstizione, dell'ignoranza, della religione e di tutto ciò che non è razionale. Ad esempio, pratiche magiche, il malocchio, piuttosto che la superstizione, appunto, porta sfortuna a rompere lo specchio, questo qui o questo là. Ecco, tutte queste cose per gli illuministi erano prive di senso e dovevano essere eliminate, dovevano essere smantellate grazie alla luce della ragione. Quali sono le caratteristiche dell'illuminismo? Nonostante l'illuminismo convergessero a tante posizioni, possiamo trovare alcune caratteristiche comuni. Prima, la fiducia nell'uso critico della ragione. Usando il pensiero, seguendo ragionamenti logici, si può raggiungere la verità. Due, la fede nel progresso, sia scientifico che culturale. L'umanità segue le tappe di una crescita che, partendo da culture primitive e rudimentali, giunge fino all'età adulta, l'età dei lumi. Poi li spieghiamo, eh, tutti questi punti. Tre, la critica ai tradizionali insegnamenti della Chiesa, considerati fonti di ignoranza e superstizione. Quello che dice la Chiesa lo posso accettare soltanto quando la mia ragione mi dice che questo è un comandamento valido. L'opposizione all'assolutismo e al dispotismo monarchico. Cioè l'idea che tutti gli uomini sono nati uguali, ed essendo nati uguali, avere un re assoluto che dice che è stato messo lì da Dio, non ha senso, non segue la ragione. Quindi, se questo re non ha senso di esistere, gli illuministi dicono che bisogna rovesciare il governo monarchico e crearne uno più aderente alla volontà del popolo. La libertà di pensiero e di azione. Esiste soltanto un vincolo, quello della ragione. Io posso ritenermi libero di dire tutto quello che penso e di fare tutto quello che la ragione mi dice. Ad esempio, se la ragione mi dice che tutti gli uomini sono uguali, invece i sovrani, i nobili e il clero mi dicono che in base alla Bibbia tutti gli uomini non sono uguali, ma sono diversi, perché Dio ha scelto qualcuno per comandare e qualcuno per ubbidire, se la mia ragione non aderisce a quello che mi dicono gli altri, allora io devo ritenere che tutti gli uomini sono stati creati o sono nati uguali. Se tu non me lo dimostri con la scienza, che due uomini sono diversi, allora per me sono uguali e quindi non ha più senso avere dei signori da una parte e degli schiavi dall'altra. E io lo posso dire questo, certo, lo posso dire, perché la libertà di pensiero è uno dei punti cardine degli illuministi. Tutto ciò che mi detta la ragione io posso e devo dirlo per discutere e arrivare insieme agli altri a una verità razionale. Se il mio ragionamento mi dice che tutti gli uomini sono uguali, allora che non esistono schiavi per natura, non esistono sovrani per natura, allora ho anche libertà di azione. Posso, ad esempio, ordire una congiura o una rivoluzione per destituire il sovrano, monarca, assolutista e dispotico e mettere in piedi un governo migliore. Questo lo diceva anche Sant'Agostino, per capirci. Se il re non governa per il bene comune, il popolo ha diritto di uccidere il re e scegliere un altro. L'individuazione è una nuova figura in campo culturale, quella dell'intellettuale. In questo periodo nascono i giornali, le gazzette e sopra ci scrivono gli intellettuali. Ci sono persone che fanno dell'intelletto, cioè della ragione, il loro strumento, la loro arma principale per discutere su qualunque tipo di argomento. Dobbiamo fare la guerra con l'Inghilterra? Sì, no, perché, ecco, oppure dobbiamo modificare il modo di coltivare il grano. Ci sono degli studi scientifici che mi dimostrano che coltivando in un certo modo miglioro la produzione rispetto al modo tradizionale. Allora io devo seguire questo progresso scientifico e lo devo dire. E questo è un compito degli intellettuali che si fanno portavoci di questo nuovo modo di pensare. Adesso andiamo un po' più in profondità, ragazzi, e andiamo a vedere, eccolo qui, l'illuminismo, quali sono gli aspetti chiave di questo movimento di idee che, non lo sentiremo mai abbastanza, è stato fondamentale per il progresso dell'umanità. Dopo la rivoluzione scientifica del Seicento, gli illuministi cosa dicono? Beh, ma se Galileo ci ha detto che l'universo è un libro scritto da Dio e l'ha scritto con quale lingua? Utilizzando la matematica. Io, grazie alla ragione, capisco la matematica, quindi capisco come funziona l'universo, quindi lo posso modificare a mio favore, a mio vantaggio. Se, allora, la scienza è riuscita, la ragione è riuscita a migliorare la scienza, le nostre conoscenze sull'universo, sul sole, le stelle, sulla chimica, sulla biologia, sulla storia, sulla filologia, eccetera, eccetera, perché non posso usare la ragione anche per applicarla ad altri campi del sapere? Ad esempio, la convivenza tra le persone. Quello che vi dicevo prima, ragazzi, ma non esiste che qualcuno venga a dirmi che esistono schiavi per natura e signori per natura. La ragione mi dice che non è vero. O me lo dimostri in laboratorio, come puoi dimostrarmi in laboratorio che il piombo è diverso dal ferro, perché se io li osservo, perché se io faccio degli esperimenti, mi accorgo che sono due elementi diversi. Se tu mi puoi dimostrare che gli uomini sono diversi in laboratorio, scientificamente, come puoi dimostrarmi che il ferro e il piombo sono diversi, allora io lo accetto. Se invece non lo puoi dimostrare, per me gli uomini sono uguali. E se sono uguali, hanno tutti il diritto di vivere dignitosamente, avere un certo reddito, pagare le tasse in modo equo, poter dire quello che vogliono, poter fare quello che vogliono, tutti devono pagare le tasse, non solo qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo dalla definizione, allora da una celebre definizione di Immanuel Kant, che è stato un grandissimo filosofo europeo, uno dei più studiati a livello mondiale. Era un filosofo illuminista. Come definiva questo movimento? L'illuminismo, dice Kant, è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità, cioè il fatto di essere minorenne, di essere trattato come un bambino, di cui deve incolpare solo se stesso. Cos'è questa minorità? Questa situazione detestabile in cui si è messo l'uomo? è l'incapacità di utilizzare il proprio intelletto senza la guida di un altro. È proprio colpa dell'uomo, dice Kant, se esistono degli schiavi e dei signori, perché l'uomo ha mancato di decisione e di coraggio per fare uso del proprio intelletto senza essere guidato da un altro. Sapere aude, che è latino, che significa abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. E questo è il motto dell'illuminismo. Sapere, intelligenza, aude, sii audace. Quindi abbi il coraggio di conoscere, di usare il tuo cervello. Quali sono gli aspetti chiave? La critica della ragione. Eredi della ragione, l'illuminismo vuole adattare alla filosofia il metodo della fisica newtoniana, delle scienze cosiddette dure, della matematica, della geometria, dell'astronomia, eccetera, eccetera. Se ci hanno dato questi grandi risultati, queste tecniche di indagine nella natura, ad esempio abbiamo scoperto che la Terra non è più il centro dell'universo, è il Sole al centro dell'universo, e poi si scoprirà, ma no, non è neanche il Sole, l'universo non si sa se è un centro, comunque il Sole è sicuramente in periferia, una stella come tante altre. se vi dicevo la scienza ha dato ottimi frutti riguardo all'astronomia, alla fisica, alla geometria, eccetera, perché non esare la scienza anche per la filosofia, cioè per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. E' giusto che ci sia il Re? La scienza mi dice no, non è giusto, perché siamo tutti uguali, non è vero che siamo diversi. La fede nella ragione, coniugandosi con il modello sperimentale della scienza newtoniana, quello abbiamo appena visto, sembrava rendere possibile la scoperta non solo delle leggi del mondo naturale, ma anche di quelle sociali. Si pensò allora che usando correttamente la ragione sarebbe stato possibile un progresso indefinito della conoscenza, della tecnica e della morale. Quindi utilizzando la scienza, secondo gli illuministi, si può passare da una vita miserabile fatta nelle capanne, senza acqua, senza elettricità, senza medicinale, senza niente, a un tipo di vita migliore. Quando arrivano anche le comodità, quando la scienza ci porta ad esempio le medicine, ci porta ad esempio la carne in scatola. Prima non era possibile. Con la scienza, grazie ai freezer, grazie alle navi che trasportano queste scatolette, noi possiamo mangiare la carne in scatola. Prima non era possibile. fin dagli inizi, gli illuministi presuppongono che la gran parte degli uomini, pur essendo stati creati liberi dalla natura, si accontentano molto e volentieri di rimanere minorenni per tutta la vita. questa condizione è dovuta o a comoda pigrizia o a viltà o a scarsità di coraggio, al non avere, cioè il coraggio, di cercare la verità. Che cosa succede allora? Che se io ho un libro che pensa per me, se ho un direttore spirituale, cioè un parroco, qualcuno, che pensa per me, io non ho più bisogno di darmi pensiero di me, non ho più bisogno di pensare, purché possa solo pagare. Cioè cosa dicono gli illuministi? Dicono attenzione, perché usare la ragione è una cosa molto faticosa, lo sappiamo, no? Ragionare, a ragionare si fa fatica. Ci sono persone che non sopportano questa fatica, che preferiscono di gran lunga avere un libro che pensa per loro o un direttore spirituale che pensa per loro. A quel punto, se c'è qualcuno che pensa per loro, se c'è qualcuno che pensa per loro, allora io, l'importante è che io paghi le tasse e stia al mio posto. Ok? Quindi gli interessati tutori, cioè i nobili e il clero, quelli che vogliono tenere il popolo in una condizione di inferiorità, imprigionano dunque i vili, quelli che hanno paura, e i pigri, quelli che non hanno voglia di usare la testa, in una carrozzina da bambini. paventano, cioè mostrano loro i rischi che si corrono a voler camminare da soli. Ma, ci avvertono gli illuministi, non si impara a camminare senza cadere, anche se questo terrorizza moltissime persone, per cui rimarranno bambine per tutta la vita. Gli illuministi, inoltre, cominciano a farsi delle domande, proprio applicando il metodo scientifico alle scienze sociali, chiedendosi, ma perché gli esseri umani vivono continuamente facendosi la guerra, litigando e infliggendosi qualunque tipo di male e di sciagura? È una legge di natura? Siamo nati così? Ci ha fatti così il Signore? Come i pesci hanno le pinne? Gli uomini fanno la guerra? A rispondere a questa domanda, per rispondere a questa domanda, riescono a ideare il mito del buon selvaggio. Quello del buon selvaggio fu un mito basato sulla convinzione che l'uomo in origine fosse un animale buono e pacifico, ma solo successivamente corrotto dalla società e dal progresso. Che cosa dicono gli luministi? Abbiamo letto i resoconti degli esploratori, quelli che sono andati in America, quelli che sono andati in Asia, hanno trovato delle popolazioni cosiddette selvagge, vivevano nelle tende, non conoscevano la ruota, non conoscevano il metallo, non avevano denaro, però erano pacifici, stavano bene e allora ecco che l'uomo, secondo gli luministi, nel suo stato iniziale, appena nato, è un uomo buono, è un buon selvaggio, che non si fa la guerra, che non fa la guerra con il suo fratello. Quando è che cominciano i problemi? Eccolo qui, lo dice Rousseau, in questo celeberrimo discorso sull'ineguaglianza, dice, com'è che sono nate le guerre e i problemi? Lui immagina che migliaia e migliaia di anni fa ci fossero gli uomini previtivi che vivevano nelle caverne e che vivevano in pace, tutti in pace, perché la natura offriva spontaneamente nella foresta i frutti delle piante, le radici, gli animali da cacciare e quindi non c'erano discussioni, non c'erano guerre tra gli uomini. Però arriva uno, il primo che, avendo recitato un terreno, pensò di dire questo è mio e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quindi il primo che mette un recinto, pianta dei pali per terra e dice questo è mio è lui che fonda la società civile e fonda quindi anche e inaugura una stagione di guerra. Quanti delitti infatti ci dice Rousseau, quanti assassini, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano chi strappando i pioli cioè quelli del recinto o commando il fossato del recinto avesse gridato agli altri uomini non date ascolto a questo impostore se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno siete perduti. Quindi Rousseau dice l'uomo nasce buono ma è la proprietà privata io che recinto un pezzo di terra che dico questo è mio che comincia a generare tutti i problemi da cui oggi siamo afflitti la povertà le epidemie le carestie le guerre le inimicizie tra gli uomini gli omicidi eccetera 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 ok era la stessa cosa tra l'altro i ragazzi che diceva Gesù Cristo non mi ricordo un po' l'Evangelo ma diceva è il problema è quello il problema del mio e del tuo ciò che è mio e ciò che è tuo è quello che genera i problemi tra le persone poi torniamo a noi ragazzi torniamo o scusate torniamo sul nostro libro quindi mi raccomando che cos'è l'illuminismo? è la diffusione dei lumi il lume della ragione che deve illuminare le tenebre dell'ignoranza della superstizione se tu dici qualcosa devi dimostrarla attraverso la ragione non basta tirar fuori un vecchio libro dove qualcuno morto da 2000 anni dice quella roba perché io non ci credo me lo devi dimostrare se non me lo dimostri ragioniamo insieme in un salotto in un caffè sul giornale di trovare insieme attraverso la ragione che ci accomuna che è un dono che abbiamo tutti la soluzione dei nostri problemi in questo periodo cresce anche l'importanza dell'opinione pubblica perché vi dicevo si diffondono luoghi di discussione salotti caffè accademie e si stampano quotidiani e riviste prima le riviste e i quotidiani non c'erano adesso cominciano a diffondersi sui quotidiani che ovviamente non interessavano i contadini interessavano soltanto quelli con i soldi che avevano il tempo di sedersi al caffè comprare il quotidiano e leggerlo sui quotidiani si forma quindi un'opinione pubblica cioè l'opinione del pubblico che legge i quotidiani che ne discute della collettività dei cittadini è quello che succede oggi ragazzi se un governo di un paese democratico vuole mettere una tassa prendere un provvedimento sulla scuola sulla sanità sull'esercito presenta questo provvedimento se ne parla in parlamento se ne parla sicuramente anche sui giornali qualcuno sarà a favore qualcuno sarà contro dopo qualche giorno settimana mese di discussione l'opinione pubblica si orienta in un certo modo a favore o contro e il governo poi ne tiene conto un governo democratico non può governare contro l'opinione pubblica perché? perché poi quando si va a votare se hai governato contro l'opinione pubblica nessuno ti rivota e vai a casa la diffusione dell'illuminismo in tutto il continente allora l'illuminismo ragazzi nasce in Inghilterra alla stregua delle idee di Newton e di altri scienziati però questi semini queste idee attecchiscono e crescono rigogliose in Francia gli intellettuali francesi infatti erano convinti che la prosperità cioè la ricchezza degli inglesi fosse figlia delle libertà politiche ed economiche che limitavano il potere dei re inglesi mentre in Inghilterra governava una monarchia costituzionale che garantiva libertà economica e politica i suoi sudditi in Francia i nuovi ceti borghesi quelli che abitano nei borghi cioè a Parigi a Lione a Marsiglia gli avvocati i medici gli ingegneri i notari eccetera erano impegnati a trasformare la società per farlo però dovevano contrastare l'assolutismo monarchico e i privilegi dei nobi certo una società irragionevole come quella in cui pochissimi sono molto ricchi e il 95% della popolazione è povera o poverissima in cui però soltanto i poveri pagano le tasse mentre i ricchi non le pagano giustificando questo comportamento con la volontà di Dio questa società irrazionale che non risponde alle regole della ragione deve essere sovvertita deve essere cambiata dobbiamo creare una nuova società che consenta al popolo di vivere meglio chi sono i principali illuministi Montesquieu che dovreste ricordarvi perché è quello della divisione dei poteri legislativo esecutivo giudiziario vedete che torna l'avevamo fatto in geografia all'inizio dell'anno Voltaire di cui parleremo Diderot d'Alembert quelli dell'angiclopedia e Rousseau quello del buon selvaggio vediamoli uno per uno Montesquieu non la facciamo lunga è quello che scrive lo spirito delle leggi in cui sostiene il famosissimo principio che i poteri fondamentali dello stato sono tre fare le leggi governare e giudicare chi non rispetta le leggi questi tre poteri nella monarchia assoluta sono tutti concentrati nelle mani di una persona sola uno stato invece illuminista razionale tiene separati questi poteri ovviamente perché perché se io sono un re assoluto faccio una legge dico che tutti quelli che parlano male di me li metto in galera poi uso questa legge per mettere in galera tutti quelli che parlano male di me c'è qualcuno che si oppone a questa a questa reclusione senza processo senza motivo senza avvocati senza niente no nessuno perché io ho anche il potere giudiziario non c'è nessun giudice che viene a dirmi guarda che anche se sei il re certe cose non le puoi fare perché i sudditi hanno dei diritti in uno stato assolutista potere legislativo esecutivo giudiziario sono tutti nelle mani della stessa persona e quindi i diritti dei cittadini non esistono il cittadino semplice non ha nessun diritto Voltaire è stato il più grande intellettuale del settecento famosissimo era una specie di rock star degli intellettuali invetato in tutte le corti europee odiato anche da molte corti europee un uomo molto vivace anche estremamente ricco perché gli piaceva molto giocare in borsa un uomo soprattutto che grazie alla sua capacità di persuadere alla sua capacità di convincere anche la sua grandissima ironia riesce ad imporre le proprie idee il modo di vedere il mondo illuminista alla società del tempo che cosa scrive? un trattato sulla tolleranza e dice che la lobertà di opinione e di espressione sono da difendere sempre famosissima è la sua frase non sono d'accordo con ciò che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo quindi anche se non sono d'accordo con quello che dici è giusto che tu possa esprimere la tua opinione e quindi io ti difenderò fino alla morte perché tu possa dire le tue cose anche se io non sono d'accordo vediamo un po' qualche vi ho trovato un po' di frasi di Voltaire eccolo qui Voltaire vedete qui è un mezzo sorriso di solito viene ritratto più sorridente allora qualche frase di Voltaire tanto per capire il tipo era uno che diceva il dubbio non è piacevole ma la certezza è ridicola soltanto gli imbecilli sono sicuri sempre di ciò che dicono quindi ci avvisa di fidate non fidate di chi non fidatevi di chi afferma sempre con sicurezza tutto probabilmente non sta cercando di prendervi in giro la religione esiste da quando il primo imbroglione ha incontrato il primo imbecille ipocrita in questo caso vuol dire imbroglione quindi che cos'è la religione è un'invenzione di qualche imbroglione che ha raccontato la favoletta al primo imbecille che ha trovato il primo imbecille ci ha creduto e ha cominciato a portargli offerte perché questo imbroglione si proclamava voce di Dio oppure un'altra le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle cioè diceva le streghe esistevano assolutamente no a un certo punto noi ce le siamo inventate abbiamo fatto dei processi le abbiamo bruciate appena abbiamo smesso di bruciarle le streghe sono scomparse perché? perché c'erano prima e poi sono scomparse no perché non sono mai esistite ce le siamo inventate noi un'altra cosa un'altra cosa sull'ignoranza bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto oppure bellissima questa la superstizione mette il mondo intero in fiamme superstizione ad esempio secondo Voltaire era quella religiosa vi ricordate tutte le guerre di religione che abbiamo visto nei mesi nei mesi passati la strage di San Bartolomeo tutti quegli episodi di intolleranza le stragi degli ebrei eccetera musulman eccetera 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 ecco la religione dice Voltaire mette il mondo intero in fiamme la filosofia illuminista la ragione spegne le fiamme perché se noi ragioniamo ci rendiamo conto secondo gli illuministi o che Dio non esiste o che di Dio secondo altri ce n'è uno solo e non ha senso farci la lotta per vedere qual è il Dio migliore Dio è uno poi lo possiamo pregare vestiti da frati in un convento sperduto nella Francia rurale possiamo pregarlo in una sinagoga a Gerusalemme vestiti con l'abito tradizionale ebraico possiamo pregarlo in una moschea a Istanbul vestiti con l'abito tradizionale turco non fa niente non importa sono differenze senza importanza Dio è uno non dobbiamo farci la guerra per vedere qual è il migliore è unico o un'altra cosa sulla tolleranza ama la verità ma perdona l'errore quindi noi dobbiamo amare la verità e fare di tutto per raggiungerla ma se c'è qualcuno che dice delle cavolate dobbiamo essere comprensivi non dobbiamo cominciare a bruciare anche quelli dobbiamo essere tolleranti noi siamo meglio di chi è venuto prima di noi poi ecco il più grande dei crimini questo cercavo il più grande dei crimini almeno il più distruttivo e di conseguenza il più contrario al fine della natura è la guerra ma non vi è alcun aggressore che non colori questo misfatto con il pretesto della giustizia quindi dice il peggior male del genere umano è la guerra ma nessuno che comincia una guerra dice io ho cominciato la guerra per prendermi la slesia perché mi faceva gola a quel territorio hanno sempre delle scuse dicono di agire secondo giustizia io prendo la slesia non perché mi fa gola perché è piena di miniere e mi servono per fare le armi mi fa gola no mi prendo la slesia e faccio la guerra perché devo impedire che Caterina d'Austria salga sul trono perché non è giusto deve essere un uomo salire sul trono e io faccio la guerra per difendere questo principio ovviamente tutta una balla però il pretesto della giustizia è questo qui e poi ancora uno ah ecco una sulla bellezza che mi è piaciuto molto chiedete al rospo che cosa sia la bellezza e vi risponderà che è la femmina del rospo cosa vuol dire vuol dire attenzione la bellezza non è un valore assoluto come la temperatura che se io guardo il termomato tu guardi il termomato se segna 20 e 20 per tutti e due la bellezza dice anche il proverbio negli occhi di chi guarda la bellezza cambia a seconda del tempo e dello spazio se io vado in Giappone sulla rivista di moda vedo un certo tipo di bellezza se vado a Parigi sulla rivista di moda vedo un altro tipo di bellezza se torno indietro nel Neolitico troverò la statuetta della Venere Neolitica che è un altro tipo di bellezza ancora è molto più rotonda molto più cicciottella vi ricordate dovreste avere qualche ricordo del vostro libro di educazione artistica quindi chiedete al rospo che cosa sia la bellezza e anche lui ha una sua idea di bellezza e vi risponderà che è la femmina del rospo la bellezza anche se a noi ripugna se noi fa un po' di ribrezza e poi ecco questa qui è bellissima ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto siamoci un po' ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto ciò vuol dire che l'unica cosa che importa è il bene che tu fai nella tua vita e se tu hai la possibilità di fare del bene e non lo fai sei colpevole quindi alla fine della vita Voltaire non vedeva tanto il bicchiere mezzo pieno guarda quante belle azioni ho compiuto nella mia vita il bicchiere è mezzo vuoto guarda quante volte avrei potuto fare del bene e per pigrizza per ignoranza per le circostanze del momento non l'ho fatto e questo è una mia colpa ok poi non facciamola troppo lunga torniamo al nostro libro ah ecco l'enciclopedia l'enciclopedia raccoglie tutto il sapere dell'epoca che cos'è l'enciclopedia beh noi oggi se non lo sapessimo potremmo andare su internet e guardare su wikipedia che è un'enciclopedia oppure se qualcuno ce l'ha a casa un'enciclopedia della Mondadori o altro è un'opera che raccoglie o tenta di raccogliere tutto ciò che c'è da sapere di scientifico ok di pratico vediamo un po' più nel dettaglio poi la spieghiamo meglio di De Roe d'Alembert sono da ricordare questi due furono gli ideatori di un'opera grandiosa l'enciclopedia ovvero sottotitolo il dizionario ragionato delle scienze delle arti dei mestieri era in 28 volumi e aveva l'ambizione di essere una raccolta di tutto il sapere dell'epoca compresi i progressi di scienza e di tecnica perché ma perché ragazzi gli illuministi si erano accorti che la scienza e la tecnica non sono scienze da disprezzare se il nostro obiettivo usando la ragione è quello di arrivare alla verità e attraverso la verità migliorare anche la condizione umana perché sappiamo che siamo pieni di guerre di caristie di pestilenze eccetera eccetera perché non usiamo la scienza e la tecnica alla luce della ragione per migliorare le nostre condizioni di vita voglio dire noi oggi lo diamo un po' per scontato però a quei tempi c'era una grandissima discussione ad esempio sul grano come faccio a produrre più grano a noi oggi la risposta sembra banale beh facile compri un trattore in più allarghi il campo e ci metti dentro più fertilizzante così le spighe saranno più grosse e i chicchi più numerosi a quei tempi la fertilizzazione non era conosciuta si cominciava a capire qualcosa in più di chimica e tutta questa discussione per gli illuministi era fondamentale perché produrre più grano significa togliere più persone che stanno morendo di fame dalla povertà migliorare le loro condizioni di vita quindi sapere come funziona la seminagione di un campo come è il raccolto oppure guardate questi strumenti qui eh gli strumenti oculistici e dontoiatri come faccio a aiutare qualcuno che non ci vede a vedere meglio a vedere come prima o gli occhiali oggi diremmo noi però è un campo scientifico e tecnologico è la scienza dell'ottica e la tecnologia per realizzare le lenti oppure come faccio a vedere qualcuno dal mal di denti eh con l'anestesia il dentista eccetera eccetera inventati in questo periodo cioè la scienza e la tecnologia devono essere degli strumenti nelle mani della ragione per migliorare il la condizione umana per far questo dobbiamo diffondere il più possibile tutti questi nuovi strumenti che sono stati realizzati in Inghilterra in Francia in Italia in Germania eccetera diffonderne la conoscenza il più possibile cosa facciamo li stampiamo tutti su un libro no sono tantissimi facciamone due di libri no facciamone tre alla fine saranno 28 e li vendiamo a più gente possibile ecco qui scusate ho una mappa della diffusione dell'enciclopedia in questo periodo eh vedete questi qui gialli sono i volumi dell'enciclopedia venduti poi ci sono quelli verdi che sono i giornali scientifici che venivano pubblicati eh quelli in viola sono le gazzette che sono i nostri quotidiani la stampa la cheoria della sera vedete che eh Italia e Francia recepiscono questa nuova ondata di conoscenza che viene fuori attraverso la riflessione degli illuministi e della e della e della società civile francese poi andiamo avanti scusate torniamo al nostro libro il papa tenta di bloccare il lavoro sull'enciclopedia il papa nel 759 condanna l'enciclopedia e il re Luigi XV ne ordina più volte addirittura la sospensione il papa la mette nell'indice dei libri proibiti addirittura proibiti perché perché nell'enciclopedia c'erano delle idee che al papa non potevano piacere ad esempio che gli uomini sono tutti uguali che la tecnologia e la scienza sono una chiave per il progresso della società e non la religione eccetera eccetera Rousseau è quello che abbiamo visto prima quello del mito del buon selvaggio sosteneva che il processo di incivilimento cioè la nascita della civiltà umana è fonte di degenerazione e corruzione cioè la civiltà come dicevamo prima è una cosa brutta che ti porta alla guerra e soltanto ripristinando l'uguaglianza primitiva si potevano sconfiggere l'ingiustizia e l'oppressione quindi è il più estremista di tutti di Rousseau dice che dobbiamo tornare tutti non a vivere nella foresta ma tutti avere le stesse cose non esiste che uno vive nella capanna e l'altro vive nel castello tutti nella casetta di questo ricordiamoci soltanto Immanuel Kant che è stato il più grande filosofo del settecento europeo notate è carino questo dipinto ci mostra un po' com'era l'atmosfera del tempo questo è il salotto di qualcuno che ha invitato un po' di amici tutti ovviamente coi soldi colti illuministi come lui a bere il tè o a bere un aperitivo o a cena perché si usava molto spesso e per trascorrere il tempo e per fare qualcosa di utile abbiamo Jean-Jacques Rousseau alla scrivania che legge un i suoi scritti eh sì no scusate non capisco che qui c'è l'indicazione Rousseau mentre qui c'è scritto D'Alembert legge i suoi brani comunque vabbè diciamo che questo in rosso è un illuminista che legge qualche cosa dei suoi scritti riguardo all'uguaglianza riguardo alla scienza eccetera eccetera soprattutto c'è il busto di Voltaire che è una specie di santo protettore di tutti gli illuministi da questa parte c'è Diderot che finisce poi l'enciclopedia qui c'è Montesquieu che ascolta anche lui interessato e tutti gli altri nobili sono lì ad ascoltare e a discutere di queste nuove idee vedete contadini operai qui? assolutamente no ricordiamocelo questa immagine se non altro per ricordarci che l'illuminismo è un movimento di idee che interessa soltanto i nobili quelli che avevano il tempo di discutere e di leggere queste cose quelli che dovevano zappare tutto il giorno no che cosa pensa l'illuminismo riguardo alla politica e alla religione in campo politico gli intellettuali illuministi sostenevano posizioni che spesso si rivelavano diverse tra loro alcuni come Voltaire preferivano uno stato monarchico perché Voltaire pensava che alla fine degli uomini non ci si potesse fidare molto pensava che gli uomini sono naturalmente ignoranti e che sono troppo pigri per migliorare la propria condizione e allora se sono ignoranti sono aggressivi sono tutti concentrati su quello che dicevamo prima no il problema del mio e del tuo e allora meglio che ci sia un monarca illuminato come Federico II di Prussia comunque un filosofo per tenere a bada questa massa di ignoranti e piano piano con le scuole con l'ansiclopedia eccetera eccetera portarli anche loro verso la ragione Montesquieu invece preferisce la soluzione inglese dice sì ci vorrebbe una monarchia ma accanto alla monarchia un parlamento come quello inglese è una costituzione che garantisca dei diritti al cittadino Rousseau invece è il più estremista e dice che l'unica forma di governo ragionevole è la democrazia in cui non ci sono più disuguaglianze tra ricchi e poveri le leggi sono uguali per tutti e il popolo può scegliere i propri governanti addirittura Rousseau non è neanche tanto per la scelta dei governanti Rousseau dice facciamo la democrazia vera non esiste che noi andiamo a votare scegliamo uno che per 5 anni sta lì e decide il nostro posto no 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 quando c'è da decidere su cose importanti si va a votare con i famosi referendum siete d'accordo a fare la guerra all'Austria sì no votiamo non decide il primo ministro oppure siete d'accordo a mettere la tassa sulla cioccolata votiamo non decide il ministro della salute queste idee attecchiscono anche nella testa di alcuni sovrani e si chiamano appunto sovrani illuminati la monarchia illuminata o assolutismo illuminato tre stati in particolare l'Austria la Prussia e la Russia hanno tre sovrani che abbracciano queste nuove idee cosa succede in Austria ad esempio Maria Teresa d'Austria è quella contro la quale Federico II aveva fatto la guerra per la Slesia che è un'illuminista anche lei in un certo senso fonda ad esempio il Catasto che è un documento in cui vengono registrate tutte le proprietà immobiliari questo provvedimento permette di tassare anche le terre dei nobili e seppure in proporzione in misura molto minore rispetto a quello dei contadini certo perché prima del Catasto nessuno neanche il sovrano sapeva a chi appartenesse un certo castello un certo uliveto un certo campo di grano eccetera eccetera è soltanto il padrone sapeva io ho sette castelli dodici campi tre uliveti eccetera 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 col Catasto Maria Teresa quindi fa un elenco delle persone più ricche del regno e comincia a fargli pagare le tasse non tanto pochino i contadini ne pagavano sempre di più ma si comincia questo principio di progressività e di uguaglianza poi mette in piede l'istruzione primaria obbligatoria cioè le scuole elementari e abolici progressivamente il tribunale dell'inquisizione il suo successore Giuseppe II decide di mettere nelle sue mani il controllo del clero nazionale sottraendo al pontefice questo la nomina dei vescovi sono soppressi i conventi e tutti gli ordini monastici contemplativi ci fa venire in mente qualcuno qualcun altro che dice non esiste che la chiesa del mio paese venga comandata da un tizio che sta a Roma la chiesa del mio paese io sono un monaco assoluto me la gestisco io me la comando io fa venire in mente il ricottavo il ricottavo d'Inghilterra che fonda la chiesa anglicana perché la chiesa cattolica quella del papa non gli dava il divorzio e quindi non poteva sposare Anna Bolena inoltre Giuseppe II riduce l'utilizzo l'impiego della pena di morte introduce il matrimonio civile cioè si si può sposare in comune non soltanto in chiesa eccetera eccetera e anche un pochino più di libertà di culto in Prussia abbiamo il re Federico II che è molto amico di Voltaire rappresenta la più compiuta personificazione del sovrano illuminato ecco due paroline su Federico II Federico II è un sovrano ve ne ho già parlato nell'altro video molto celebre perché oltre a essere un filosofo un filosofo illuminista è soprattutto un grande conquistatore è uno che agita la politica europea con delle guerre continue le vince praticamente tutte o quasi tutte e trasforma il suo regno la Prussia da una potenza una piccola potenza regionale a una grande potenza europea vi ricordo ragazzi che la Prussia è l'antenata della Germania quelli che poi prima guerra mondiale quelli che poi seconda guerra mondiale e capiamoci ok infatti Vittorio Alfieri che è un intellettuale italiano una volta visitò la Prussia e disse sono scappato il prima possibile da quel luogo orribile erano tutti in divisa non era un paese normale era una virgolette general caserma cioè un paese in cui come diceva il papà di Federico Guglielmo non è il paese che possiede un esercito ma è l'esercito che possiede un paese Federico vi dicevo è un grande conquistatore uno che non ha assolutamente paura a cominciare le guerre e di solito le vince anche però è un filosofo è un filosofo molto amico di Voltaire lo ospita per diversi mesi forse anni mi pare anni a casa sua nella sua reggia e è amante della musica parla e scrive e ragiona in francese scrive musica addirittura insieme a Mozart quindi non è soltanto un sovrano cui tutti battono le mani perché è il re è davvero un compositore un esecutore che anche se non fosse stato re sarebbe comunque rimasto nei libri di storia della musica Federico è un sovrano molto particolare ed è un sovrano diciamo anche un po' deludente questa è una considerazione mia personale non c'è sul libro cioè vedere un intero regno governato da un filosofo che invece di essere un regno dove tutti stanno bene dove c'è uguaglianza dove c'è tolleranza dove c'è la pace eccetera diventa un paese che organizza il grandissimo esercito e fa la guerra con tutti i paesi europei è qualche cosa di deludente qualche cosa di deprimente gli dice ma insomma forse questi filosof avevano delle buone idee però metterle in pratica è un po' un'altra cosa scusate un momento ragazzi allora scusate torniamo a noi stiamo parlando dei sovrani illuminati anche in Russia c'è una sovrana illuminata Caterina II Zarina 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 è l'imperatore uomo Zarina l'imperatrice femmina e fece il possibile per aprire il paese la Russia all'influenza della cultura europea cercò di portare avanti delle riforme nell'ambito giudiziario amministrativo e scolastico soprattutto cercò di far pagare le tasse ai nobili delle campagne che non le avevano mai pagate l'esperimento andò bene fino a quando i nobili delle campagne non si ribellarono alla Zarina ci fu una guerra civile qui ne vediamo un passaggio e Caterina vinse ovviamente questa guerra civile ma questo fatto la convinse che forse non era il caso di portare avanti un certo tipo di riforme in un paese come la Russia che era un paese estremamente arretrato feudale ve l'ho già detto con una grandissima parte della popolazione analfabeta che non era più il caso di portare avanti questo genere di riforme e quindi le abbandonò completamente altro punto cosa pensavano gli illuministi della religione ve ne ho già parlato un pochino nei passaggi precedenti ma è il caso di fare il punto della situazione in ambito religioso è possibile trovare nell'illuminismo due grandi tendenze è il deismo e l'ateismo che cos'è il deismo chi erano i deisti i deisti da deus in latino che significa dio credevano nell'esistenza di dio ma non il dio di abramo di isacco di giacobo di iso cristo il dio di baometto assolutamente no pensavano che esistesse un dio che aveva creato l'universo aveva messo in moto questo meccanismo aveva immaginate il dio come un architetto o meglio ancora come un orologiaio che costruisce un orologio molto complesso è l'universo gli dà la carica perché è un orologio a molla una volta caricato lo lascia per i fatti suoi e se ne se ne disinteressa completamente quindi per i deisti dio esiste sì ma è un dio che si disinteressa totalmente delle faccende umane dio quindi molto lontano un deista non avrebbe mai pregato il proprio dio o signore o signore fammi avere otto di storia l'angelo custode puoi pregare l'angelo custode cristiano puoi pregare per avere l'otto di storia perché il dio cristiano è un dio che controlla quello che fai ti segue dalla culla alla tomba tiene il conto di tutti i peccati che commetti ti premia in base alle buone azioni ti punisce in base alle cattive azioni è molto attento quasi ossessivo sulla tua condotta è molto interessato a quello che fai o quello che non fai il dio cristiano il dio dei deisti se ne frega altamente non pregherai mai il dio dei deisti fammi avere otto di storia perché il dio dei deisti sta da un'altra parte e si disinteressa ai tuoi otto ai tuoi quattro se tu vivi se tu muori ok è stato quello che ha messo in moto l'universo possiamo dire oggi quello che ha acceso il big bang è esploso tutto e se ne è andato a dormire infatti Voltaire cosa diceva Dio non si mescola nelle faccene terrene ma è un architetto dell'universo che agisce secondo leggi non sempre comprensibili o favorevoli gli interessi umani poi ci sono gli atei conoscete l'espressione A alfa privativo vuol dire non e TEI deriva da TSEOS in greco che significa Dio quindi senza Dio gli atei negavano completamente l'esistenza di Dio e proclamavano irrazionali tutti i culti tutte le religioni secondo gli atei sono insensate per loro la religione era stato uno strumento utilizzato dal potere per lasciare la popolazione nell'ignoranza e nella paura quindi gli atei cosa dicono la religione è una cosa insensata priva di fondamento e sono tutte favole poi si chiedono ma perché sono nate queste favole eh ricordate i luministi ragionano si chiedono il perché delle cose non gli bastano le prime risposte e giungono le risposte dicono la religione questa favola molto suggestiva ma falsa è stata inventata da qualcuno Voltaire direbbe un imbroglione che ha trovato dei degli sciocchi che l'hanno ascoltato gli hanno creduto e da questi sciocchi ha cominciato a ricevere offerte e tasse la religione quindi secondo gli atei i luministi è una favola inventata dai potenti dai sacerdoti per non lavorare ma esigere le tasse dai contadini e ingrassare nei loro conventi nei loro palazzi senza mai sudare senza mai zappare neanche un giorno della loro vita insisto un po' su questo aspetto perché è l'idea che poi riprenderà e svilupperà con altre conseguenze altre implicazioni un grandissimo filosofo dell'ottocento Karl Marx che dirà appunto che la religione è una sovrastruttura cioè una favola inventata dai padroni per tenere soggiogati e nell'ignoranza i i poveri poi andiamo ancora ecco l'illuminismo arriva in Italia adesso vediamo la seconda parte di quel breve video che avevamo cominciato prima anche qui da noi in Italia le idee le diffusero due furono i centri più attivi del nostro paese Napoli e Milano ed è proprio a Milano che sono andata a fare ricerche stamattina ho montato il video ve lo mostro guardate siamo in via Monte Napoleone una delle più note vie milanesi conosciuta per i numerosi negozi alla moda ma un tempo il nome di questa via era Contrada del Monte e proprio lì dove abitava lo studioso Pietro Verri si riuniva il circolo degli intellettuali luministi milanesi erano giovani uomini poco più che ventenni entusiasti di poter confrontare le proprie idee crearono un'associazione culturale l'Accademia dei Pugni e poi pubblicarono una rivista che chiamarono Il Caffè perché doveva avere sulla mente degli uomini gli stessi effetti stimolanti della bevanda insieme a Pietro Verri c'erano altri intellettuali molto importanti tra i quali Cesare Beccaria l'autore del saggio dei delitti e delle pene una delle opere più note dell'illuminismo italiano in cui si critica l'uso della tortura e della pena di morte leggete se dimostrerò non essere la pena di morte né utile né necessaria avrò vinto la causa della umanità e così le idee illuministe contribuirono a cambiare in alcuni stati le leggi e i procedimenti giudiziari dell'epoca allora che te ne pare? molto bello quella dell'illuminismo è proprio un'epoca entusiasmante beh in realtà fu anche un'epoca di scontri e di guerre ci furono tre grandi conflitti detti guerre di successione perché vennero combattute dagli stati europei per imporre i loro candidati sui troni di Spagna Polonia e Austria con le guerre di successione gli stati cercavano la supremazia in Europa dal 1756 al 1763 si scatenò una nuova sanguinosa guerra detta dei sette anni che interessò molte nazioni sia in Europa che nelle colonie sullo stesso fronte combatterono Francia Austria Russia e più tardi la Spagna sull'altro fronte si coalizzarono l'Inghilterra e la Prussia una potenza in grande ascesa dotata di uno dei più forti eserciti d'Europa alla fine del conflitto l'Inghilterra ampliò moltissimo il suo impero coloniale ottenne il Canada gran parte del Nord America e la Florida e conquistò il predominio sui mari la Prussia cominciò ad espandersi notevolmente nell'Europa centro orientale bene ragazzi allora torniamo a noi gli illuministi lombardi e il caffè come viene ricevuta come viene recepita questa nuova corrente di pensiero della nostra Italia del Settecento in Lombardia soprattutto un contributo importante alle riforme e alla diffusione della cultura dei lumi venne da un gruppo di giovani nobili riuniti intorno alla figura di Pietro Verri che insieme ad altri fratelli e ad altri intellettuali dell'epoca fondò nel 64 la rivista letteraria Il Caffè Pietro Verri vi ho segnato qui di fianco è fratello di Giovanni Verri ci tornerà buono l'anno prossimo perché Giovanni Verri sarà il padre più probabile di un grandissimo scrittore italiano Alessandro Manzoni una parola anche su questo titolo il caffè come mai il caffè beh il caffè perché si diffondevano in questo periodo appunto oggi li chiameremmo bar questi caffè che erano locali frequentati da nobili nei quali si discuteva appunto dei temi del giorno delle idee luministe di tutto quello che abbiamo visto prima caffè è una bevanda che tutti conoscete che si è diffusa appunto in questo periodo tra le classi colte del europee ed era una bevanda lo sapete una bevanda eccitante una bevanda che aiuta a tenere svegli quindi questi illuministi corroborati aiutati rinforzati sia dalle idee nuove che arrivavano dalla Francia ed Inghilterra sia da questa nuova bevanda potevano discutere animatamente e scrivere ragionare e poi scrivere ok questa bevanda bla 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 questo periodico proponeva una cultura nuova libera e spregiudicata questa cultura non nasceva dallo studio solitario dei dotti ma dalle libere discussioni dei cittadini più consapevoli all'interno di questi caffè le riflessioni riguardavano problemi concreti della società e sollecitavano una politica di riforme da parte del governo austriaco e vi ricordate l'Austria aveva preso il controllo di Milano e della Lombardia uno dei collaboratori di questa rivista era Cese Beccheria autore dell'opera famosissima dei delitti delle pene in cui veniva condannata la tortura e la pena di morte considerandole non un metodo per ottenere giustizia ma una crudeltà e un ulteriore delitto cosa diceva Beccheria adesso leggiamo anche qualcosa Beccheria diceva proprio alla luce di quello che dicevano gli illuministi e quindi la ragione come chiave per raggiungere la verità ma se io acciuffo un uomo che è sospettato di aver commesso un delitto come faccio a stabilire se è colpevole e innocente prima si utilizzava la tortura la tortura era uno strumento utilizzato da tutti i tribunali in tutta Europa Beccheria però dice attenzione perché la tortura non ci dice niente sulla colpevolezza o l'innocenza di una persona ci dice soltanto qualcosa riguardo la sua sopportazione del dolore continuerà a dirsi innocente fino a quando il dolore non sarà così insopportabile da cambiare versione e dice Beccheria un uomo pur di far cessare un dolore così tremendo così acuto sarebbe disposto a confessare qualunque tipo di delitto anche se non ne fosse irresponsabile la tortura quindi non è uno strumento d'indagine non ci dice niente sul colpevolezza o sull'innocenza di qualcuno tra l'altro Beccheria dice anche un'altra cosa riguardo alla pena di morte ancora molto attuale dice attenzione ma nessuno può ergersi sopra gli altri e decidere se un uomo merita di vivere o merita di morire a maggior ragione se è un assassino perché noi l'abbiamo catturato per quale motivo perché ha tolto la vita a qualcuno e noi per punire questo delitto cosa facciamo diventiamo assassini come lui perché con la pena di morte togliamo la vita al colpevole lo stato dice Beccheria deve essere migliore dei colpevoli che riesce a mettere in galera i colpevoli possono essere assassini lo stato no non lo può essere perché altrimenti se macchierebbe della stessa colpa dell'uomo che decide di punire qualche frasetta di Beccheria eccolo qui frasetta di Beccheria mi sembra ve lo traduco un po' eh faccio la parafrasi sulla pena di morte appunto parmi un assurdo che le leggi che sono l'espressione della pubblica volontà che detestano e puniscono l'omicidio ne commettono uno esse medesime e per allontanare i cittadini dell'assassinio ordinino un pubblico assassino quello che vi diceva prima mi pare assurdo che le leggi che sono espressione della volontà pubblica la volontà generale le leggi che condannano l'omicidio lo stato decida di commettere anche lui omicidio quindi rendendosi colpevole dello stesso reato che decide che sceglie di punire e per allontanare i cittadini dell'assassinio per dire guardate non dovete uccidere perché altrimenti fate quella fine lì per convincerli appunto ordina lo stato un'esecuzione pubblica una fucilazione un patibolo eccetera eccetera un pubblico assassino questa è una delle cose più importanti perché poi come vedete ce ne sono altre arriviamo verso la fine l'illuminismo in Toscana in Toscana c'è un sovrano illuminista che si chiama Pietro Leopoldo che porta avanti delle delle riforme delle bonifiche del condizionale paludose liberalizzare l'economia riforma del codice penale abolisce la tortura e prima in Europa abolisce la pena di morte il fatto è che il Gran Ducato di Toscana è grande più o meno come la Toscana attuale e quindi essendo l'Italia un paese molto frammentato anche sperimenti così audaci illuministi come quelli di Pietro Leopoldo non hanno effetti sul resto d'Europa in Piemonte cosa che interessa un po' più da vicino sebbene non abbracciassero gli ideali illuministici c'erano due sovrani Vittorio Mamedeo II e Carlo Emanuele III che per tenere un po' tranquilli le tensioni sociali che c'erano all'interno del loro regno migliorarono l'efficienza del regno vengono istituite delle scuole pubbliche con insegnanti impagati dello Stato si cerca di eliminare un po' i privilegi della chiesa e dei nobili furono introdotti anche lì i catasti come aveva fatto Maria Antonietta d'Austria nella vicina Lombardia ci furono però molte resistenze a queste riforme sappiamo che cambiare è sempre faticoso se poi tu parti dalla situazione di privilegio e ti dicono guarda devi pagare le tasse come tutti gli altri ti secca anche un po' le riforme tuttavia non nascevano dalle richieste dei cittadini ma erano ispirate da pochi uomini di cultura esse portarono doppiamente un progresso ma rimangere isolate e incontrarono forti resistenze opposizioni da parte del clero e dei nobili duramente colpiti nei loro privilegi pensate un po' clero che si vede sottrarre ad esempio in Austria i propri conventi i propri monasteri che sono palazzi ricchissimi con cantine granari campi eccetera eccetera i nobili che devono cominciare a pagare le tasse immaginate quanto potessero essere contenti però queste idee di rinnovamento ci dice il libro erano nella testa soltanto di pochi uomini colti e con i soldi la stragrande maggioranza delle persone non ne sapeva assolutamente niente di conseguenza non furono sufficienti per mettere in movimento la società intera vaste aree del regno di Napoli ad esempio dello stato pontificio cioè Lazio e Marche conservavano inoltre una struttura economica sociale arretrata basata sul latifondo i cui proprietari erano del tutto disinteressati alle innovazioni che cos'è il latifondo vi ricordate sono campi enormi in cui ci sono migliaia e migliaia di contadini che lavorano a giornata percepiscono un salario che di solito gli basta ma la pena per non morire di fame cioè il salario di un contadino che miete il grano nel regno delle due Sicilie se non ricordo male in un giorno potevi guadagnare cosa? mezzo litro d'olio e una zuppa questo era il salario ah e sì e potevi dormire nella stalla se non ricordo male le descrizioni del tempo erano queste il padrone del latifondo dove sta? è lì che controlla che i suoi contadini organizzino bene il lavoro che producano il più possibile che amministrino bene la terra? assolutamente no è in un palazzo di Napoli che si stordisce tra pranzi cene e grandissime bevute e quindi questi contadini miserabili che vivono scalzi che vivono appena appena sopra la soglia della sopravvivenza molto spesso appena sotto infatti muoiono tutti molto giovani dicevo questi contadini subiscono una organizzazione economica tremenda tremenda e il sud Italia rimane ancora per lungo tempo arretrato perché? perché il padrone del latifondo non ha nessun interesse a investire a spendere su irrigazione fertilizzanti trattori quando arriveranno eccetera eccetera a migliaia di contadini è sempre andata bene così non c'è ragione di migliorare e di cambiare la nascita della massoneria la faccio molto breve questa la massoneria è una associazione segreta con finalità umanitarie nasce in Inghilterra nel 1717 era composta soprattutto da nobili borghesi intellettuali che volevano riformare la società secondo gli insegnamenti luministici hanno tutta una strana simbologia perché i massoni in realtà la parola vuol dire muratori e quindi si organizzavano come se fossero per finta dei muratori c'erano gli apprendisti i compagni i maestri si cancellavano le distinzioni sociali ma molto presto la massoneria divenne una società segreta e ancora oggi molto spesso lo è la storia d'Italia è stata segnata anche dall'intervento della massoneria cioè una società segreta in cui sono affiliati personaggi molto prestigiosi molto potenti molto ricchi che si fanno favori tra di loro non lo so io sono un ministro io sono un imprenditore io sono un cardinale ci troviamo in questa loggia segreta dove si incontravano i massoni eccola qui e facciamo affari tra di noi io assumo tuo figlio al ministero tu però mi prenoti una certa partita di merce che io produco nella mia fabbrica e tu che sei il cardinale che ne so io darai altre utilità o vantaggi per per creare questo sodalizio che si tiene in piedi con si tiene in piedi con la collaborazione segreta tra persone molto potenti se questa descrizione mi rendo conto molto sommaria vi fa venire in mente la mafia non siete troppo lontani dalla verità bene allora abbiamo terminato questo capitolo lo so che è stato lungo e faticoso però è uno dei capitoli più importanti della seconda media l'Europa dell'illuminismo non si può non sapere vi ricordo che a pagina 188 c'è la mappa concettuale ma la mappa concettuale scusatemi ve l'ho messa anche qui potete fare il fermo immagine e prenderla e copiarla perché è fatta abbastanza abbastanza bene insomma ci sono tutte le cose per sommi capi di cui abbiamo parlato oggi ok bene allora vi ringrazio per l'attenzione ragazzi e controllate poi perché vi assegno anche i compiti arrivederci e a presto ciao a tutti